In questo momento c'è una persona che può aiutarvi, aiutare a noi. L'unica persona che sentono anche lui è il napolitano. Siamo qui in Perescia, perché stiamo da 32 giorni fa. Siamo qui sulla gru oggi al giorno numero 9. Tanti sono che fanno la finta per politica, elezioni, elettorali. Abbiamo mandato tanti messaggi dal Ministero dell'Interno, anche per tutti e la politica, però nessuno che risponde. Se vivere qui in Italia vuol dire che siamo cittadini italiani o siamo cittadini del mondo. Però se viviamo qui in Italia in questo momento vuol dire che sei tu il nostro Presidente. Noi sentiamo come il nostro Presidente, se lui fa questo favore o aiuta a noi può farlo. Noi sentiamo come il nostro Presidente.